La proposta di legge per la fusione dei 15 comuni del Vallo di Diano per la costituzione di un comune unico o meglio della città Vallo incasse pareri favorevoli di Montesano sulla Marcellana e Sala Consilina. A fine maggio il Consiglio Comunale di Montesano aveva espresso parere favorevole ma con l'assenzione del gruppo di minoranza che aveva manifestato per voce della capogruppo Rosa Campiglia preoccupazione per le sorti del territorio montesanese viste anche le difficoltà per alcune località come Tardiano di raggiungere Sala Consilina, sede di distretto. La sise consigliare dopo ampia discussione ha espresso parere favorevole alla proposta con i soli voti della maggioranza vista l'assenzione dei quattro consiglieri di opposizione discutendo a lungo sulla questione quorum che resta il nodo da sciogliere in caso di referendum popolare con il sindaco di Montesano che riteneva necessaria la modifica della legge regionale inserendo il quorum sia al 40% più 1 oppure al 50% più 1 purché inserito. La questione quorum è stata al centro della discussione anche a Sala Consilina dove nella serata di ieri si è tenuto il Consiglio Comunale con unico argomento all'ordine del giorno proprio alla proposta di legge sull'istituzione del Comune Unico Vallo di Diano. Una discussione a cui non hanno partecipato tre consiglieri di opposizione, ossia Sant'Arsiere, Carrazza e Paladino e tre consiglieri di maggioranza, ossia Gallo, Garofalo e Lopardo assenti nella seduta di ieri. A relazionare sul tema il sindaco Francesco Cavallone che si è soffermato in particolare sull'importanza di offrire ai cittadini valdianesi tutti la possibilità di esprimersi in merito ad un'eventuale istituzione della città Vallo e soprattutto la necessità di inserire il quorum al 50% più 1 al fine di rendere la consultazione democraticamente valida. Nel corpo del deliberato il sindaco Cavallone ha proposto quindi di inserire un ulteriore passaggio in cui il parere favorevole alla proposta di legge sulla fusione dei 15 comuni valdianesi viene subordinato all'inserimento, si legge nella delibera, del quorum al 50% più 1 degli aventi diritto necessario per la validità della consultazione referendaria. Le motivazioni e la proposta del sindaco Francesco Cavallone sono state pienamente condivise dal consigliere di opposizione Domenico Cartolano che nel corso del suo intervento ha rimarcato le parole del sindaco in merito al quorum riferendo alla sise consigliare come chiedere l'inserimento del quorum al 50% più 1 per la consultazione referendaria sulla fusione dei 15 comuni sia da ritenersi un dovere etico istituzionale. La proposta di deliberato è stata approvata all'unanimità da tutti i consiglieri comunali presenti. Al momento quindi favorevoli alla proposta sono Polla, Montesano e Sala Consilina che ha subordinato il parere all'inserimento del quorum. Contrari invece Sanza, Teggiano e Monte San Giacomo. Lunedì 20 l'argomento sarà affrontato in consiglio comunale a San Pietro Altanagro.